In Alpago nasce Sweet Home, un'iniziativa a sostegno di anziani e persone con difficoltà abitative. La location individuata come alloggio, grazie al contributo di Cari Verona, è l'ex asilo di Lamosano. Ne parliamo con il presidente della cooperativa Sviluppo e Lavoro dell'Alpago, Gianfranco Borgato. Abbiamo discusso di un'opportunità, di una esigenza del territorio che è emersa dai vari incontri che abbiamo effettuato con gli amministratori, con i servizi sociali e anche con Veneto Lavoro. Abbiamo cercato di capire di che cosa il territorio avesse bisogno ed è emersa appunto questa necessità di trovare degli alloggi per persone anziane e non solo anziane, comunque persone che per qualche motivo hanno difficoltà autosufficienti ma hanno difficoltà appunto a trovare un alloggio. Abbiamo progettato la cosa, l'abbiamo presentato un bando alla Fondazione Cari Verona che dopo le varie procedure ha approvato questa nostra idea, questo nostro progetto e l'abbiamo realizzato ed è partito da pochi giorni. Noi chiamiamo Sweet Home un alloggio, l'ex asilo di Lamosano, gentilmente concesso dal comune di Chies appunto per soddisfare queste esigenze. Insieme a questo c'è stato approvato sempre appunto dalla fondazione il progetto Helper che riguarda l'impiego di una persona nel territorio per fare dei lavori sempre a favore di abitanti della zona dell'Alpago, dei tre comuni dell'Alpago che per necessità sfalcio, taglio erba soprattutto per le persone anziane che magari hanno difficoltà a raggiungere i servizi e noi abbiamo queste persone a disposizione che può dare un aiuto e può soddisfare delle esigenze che si possono presentare.